Ciao, sono Roberto e queste sono le mie scorie Rivoli Narrativi. Per chi non mi conosce, vi invito a vedere il primo video del canale per capire più o meno di cosa parla, di cosa voglio parlare in questo canale e cosa mi piace fare, principalmente scrivere, scrivere. Mi sto cimentando nella scrittura del mio primo romanzo. Dopo il corso che ho fatto sulla scrittura creativa sto scrivendo il mio primo romanzo. In realtà il secondo, il primo, diciamo, è rimasto lì accantonato dopo cinque anni di scrittura, stesura, riscrittura, ristesura, riscrittura, ristesura insomma dopo cinque anni non ero riuscito ad arrivare al succo. Dopo il corso di scrittura e dopo la lettura di vari manuali sia tecnici che mentali, più che altro per la mentalità sono riuscito a fare una prima stesura del mio romanzo in appena un mese appena un mese perché mi sono liberato da molti preconcetti concetti che ovviamente avvelenavano quello che era il mio modo di scrivere prima di tutto ma più che altro proprio la mentalità dello scrittore e sono quasi arrivato alla fine della seconda stesura sono passati più o meno sette mesi sette mesi sì dalla prima stesura la seconda stesura sette mesi sicuramente potevo riuscire a farla anche in meno la seconda però già è un grande risultato perché perché? perché se appunto avete letto già il titolo che cosa ho fatto per scrivere questa seconda stesura? mi sono svegliato alle cinque e mezza ogni mattina per poter scrivere il mio romanzo ovviamente non l'ho fatto per tutti e sette i mesi altrimenti sarei morto non starei qui infatti pubblico questo video dopo otto mesi dall'ultimo che ho fatto per raccontare quello che è la mia esperienza l'esperienza che ho passato per scrivere questa seconda stesura con lotte interne intestine dentro me stesso per cercare di tenere a bada la procrastinazione la famosissima procrastinazione e cercare appunto di scrivere senza farmi prendere dalle altre cose dalla vita, dalla famiglia da tutte le scuse che uno si inventa sempre nella testa anche il fatto di fare questo video ho pensato almeno mesi fa di realizzarlo poi alla fine eccoci qua dopo otto mesi nella realizzazione proprio perché sto combattendo sto combattendo contro me stesso per cercare di fare quello che voglio fare sembra un paradosso quello che ho appena detto ma è così perché il voler realizzare una cosa si scontra purtroppo con tanti bias cognitivi con tante cose che all'interno del cervello non fanno nient'altro che cercare di eliminare quella forza che uno cerca di prendere dentro se stesso e tirarla fuori, le emozioni, il controllo delle emozioni razionalizzare i pensieri tutti argomenti che sto studiando nel tempo e che sto cercando di appunto assimilare e di rendere mio per cercare di scrivere con gioia più che con una forzatura che appunto rovinerebbe poi in realtà il risultato finale ma anche proprio la voglia di scrivere quindi è un periodo in cui appunto ho combattuto ho combattuto contro me stesso cosa che è positiva in realtà perché il conflitto è una cosa che ho imparato molto bene che in una storia deve esserci sempre presente il conflitto anche con se stessi anche se appunto nello stendere una storia i conflitti sono sempre tre quindi c'è il conflitto interno il conflitto esterno il conflitto di relazione che è quello con le altre persone ma quello che più diciamo va a toccare e quindi a fare la differenza in una storia eroica o meno è proprio il conflitto interno e quindi quello che ho studiato sulla tecnica della scrittura la ritrovo pienamente nella mia vita cosa che già in realtà c'era precedentemente nella mia ricerca ossessiva di essere di ricercare la vera identità dentro se stessi nel percorso spirituale che avevo intrapreso e che adesso si sta spostando e più che altro accostando anche sul discorso appunto della scrittura e quindi niente il modo che ho trovato per svegliarmi alle 5 e mezza ogni mattina è stato un semplice libro un semplice libro che mi ha diciamo dato quella spinta in più oltre al fatto appunto di razionalizzare i pensieri di non farsi prendere da dalle cose insomma della vita esterne ma mi ha dato un metodo diciamo per poter iniziare e quindi non trovare scuse e partire a sprombattuto questo libro che in questione è questo qui The Miracle Morning questa è vabbè la versione per famiglia poi ne esiste uno The Miracle Morning semplice noi comprammo con mia moglie questo all'epoca anzi lo compro lei e l'ho ritrovato per casa per caso e l'ho cominciato a leggere questo libro non fa nient'altro che diciamo mettere su carta in realtà quello che le neuroscienze già conoscono e già sanno soprattutto nella creazione di abitudini di sane abitudini di come il cervello funziona perché fondamentalmente quello che bisogna capire è come il cervello recepisce diciamo gli stimoli e come fregarlo in poche parole perché se dovessimo stare da retta al nostro cervello a noi praticamente non faremo altro che stare tutto il giorno su un divano davanti al televisore o dentro al letto a dormire io che non mi sono mai svegliato probabilmente prima delle sette forse sì sei e mezza vabbè quando capita ovviamente ho cominciato a svegliarmi alle cinque per poter scrivere alle cinque e mezza e poi dopo questo andare al lavoro perché notavo che nelle prime sessioni di scrittura che facevo di solito la sera verso le 21 verso le 9 dopo che avevamo messo a letto i bimbi cosa che adesso ho ricominciato a fare perché in questo ovviamente ci sono vari step per cui a un certo punto anche alzarmi alle cinque e mezza è stato quasi impossibile però è durato più di un mese questo fatto di svegliarmi molto prima del solito e di praticamente alzarmi fare piccoli esercizi meditazione dopodiché intraprendere la scrittura e ho notato diciamo che la giornata iniziava con un altro piglio cioè iniziava molto meglio sentivo un'energia maggiore sentivo comunque che la giornata era tutta avanti perché tu in realtà ti sveglia alle cinque sì la difficoltà infatti sta proprio nello step iniziale quindi nel svegliarsi aprire gli occhi capire che sei vivo e praticamente stavo vedendo se stava registrando sì sta ancora registrando e quindi dopo l'essere vivo intraprendere tutti i piccoli step per fare in modo di appunto poi trovarti pronto per scrivere in questo caso in realtà il libro non è che parla di chi è che vuole scrivere sono proprio una creazione di sane abitudini prima di fare quello che uno deve fare cioè qualsiasi cosa uno è appassionato comunque prima del lavoro creare questa sorta di abitudini con pochi step per cui tu ti alzi e fai queste cose loro nel libro l'autore Al Helrod e nel libro lo chiamano i i life savers cioè savers è praticamente eccolo è un acronimo non so se si riesce a leggere sta proprio scritto sotto qua i life savers ogni lettera sta per un qualcosa in questo caso per esempio la S sta per silenzio mi sembra aspetta andiamo a leggere andiamo a leggere a leggere a leggere a leggere eccolo qua allora praticamente ogni lettera appunto è uno step da fare proprio nella mattina in cui uno si sveglia quindi sveglia in questo caso io mettevo la sveglia alle 5 un quarto 5 e 5 un quarto ho la sveglia questa qui dietro quella che già ho fatto vedere nel video precedente dove praticamente simula il tramonto quindi prima una mezz'ora prima comincia a accendere la luce e questa luce già ti accompagna verso lo svegliarti senza dover svegliarti direttamente col suono della sveglia e ci sono vari suoni tra cui gli uccellini io mi sembro messo gli uccellini quindi alle 5 5 un quarto cominciamo a accendersi la luce tu cominci diciamo a vedere perché tu ovviamente dormi gli occhi sono chiusi ma è normale insomma la luce passa lo stesso in questo caso infatti ti svegli più dolcemente e diciamo c'è meno possibilità ovviamente di procrastinare la sveglia quindi di posporla c'è il pulsantino che è un po' difficile da pigiare ormai ho imparato pure a pigiare pure quello quindi ormai va bene però all'inizio insomma era molto difficile e quindi ti svegli con la luce con il suono degli uccellini e apri gli occhi la prima cosa che ti dice da fare di fare insomma questo libro è quello di andare alzarti diretto il consiglio è quello di prendere la sveglia e metterla il più lontano possibile da te di modo che tu non hai la possibilità ovviamente di posporla ma se dovessi avere l'intenzione di andarla a spegnere ovviamente perché devi andare a spegnere l'allarme ti devi per forza alzare quindi una volta alzato tu sei alzato sta a posto non ti devi andare a metterle a letto ovviamente quindi ecco il primo consiglio è quello di mettere la sveglia lontano cosa che io non ho fatto e non ce n'è stato bisogno insomma forse solo il primo giorno ma poi ho capito che non ce n'era bisogno quindi l'ho rimessa lì e quindi ti alzi spingi la sveglia prima cosa che fai vai subito subito diretto al bagno quindi sciacqua il viso ti lavi i denti e già passano due tre minuti tre quattro minuti cinque minuti perfetto vai parti vai subito in cucina ti bevi un bel bicchiere d'acqua questo fa sì che il tuo organismo ovviamente si risveglia quindi già il fatto di svegliarti andare al bagno sciacquarti il viso andare in cucina bere un bicchiere d'acqua ecco fatto che l'organismo già in quei cinque dieci minuti ha già preso vita insomma non hai più bisogno e non hai più la questione dell'andare a rimetterti sotto le coperte belle calde belle calde sì vabbè e e quindi in realtà il segreto sta tutto qua cioè sembra una capolata sembra sembra una stupidaggine il problema è che non è la stupidaggine proprio perché il difficile sta proprio nel primo passo nel primo passo nello svegliarsi perché una volta svegli ovviamente se tu hai tutto il tuo programma già stilato non devi nient'altro che essere il tuo programma ma il difficile sta tutto nello svegliarsi cosa che adesso sto avvertendo quindi ripeto è da tanto che non mi sveglio più alle cinque e mezza ma l'ho fatto per un bel mese e mezzo quasi due lo step successivo è stato quello che mi ero abituato a quella questione e quindi il difficile sta nel ripeterlo sempre ok perfetto comunque dopo aver fatto questa cosa quindi dopo aver dopo essersi svegliati dovresti già avere tutto pronto sul tavolo da lavoro su quello che tu hai intenzione di utilizzare quindi già preparare la sera prima quello che ti serve è un ottimo consiglio una volta andato lì appunto si seguono i sei step che lui chiama savers in questo caso S sta per silenzio silenzio si intende meditazione quindi mettersi seduti su una sedia seduti per terra con un cuscino da meditazione o meno distesi sarebbe meglio di no perché se no ci si riaddormenta e fare una sorta di meditazione che può anche durare in realtà un minuto proprio perché sono sono tre sei sono sei step questi sei step 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 sì questi sei step possono essere fatti anche un minuto ognuno e perché perché in realtà servono per creare appunto le abitudini cosa che poi magari mano a mano si possono sempre sistemare mettere in un modo o nell'altro magari farne uno di meno oppure fare quelle a cui cioè su cui uno è interessato per esempio il silenzio meditazione se uno non vuole fare meditazione o anche solo per dire pregare o fare solo silenzio in quel minuto può anche saltarlo non è un problema il problema è creare delle abitudini poiché se tu crei ripetizione sulle cose che fai crei abitudine cosa che ovviamente oltre a questo il nostro cervello ha bisogno anche di una sorta di di premio proprio perché non basta non basta esclusivamente creare un'abitudine cioè tu fai un'azione il nostro cervello è molto molto particolare cioè lui vorrebbe non consumare nulla cioè lui ovviamente consumando energia cerca il più possibile per salvarci proprio perché non vuole farci morire proprio perché il cervello nostro dice fino adesso stai andando bene sei vivo l'organismo funziona è tutto a posto perché dobbiamo cambiare qualcosa questo a lui richiede uno sforzo uno sforzo in in soldoni insomma in energia e quindi deve creare proprio nuove connessioni ecco dove provengono i nostri bias cognitivi tutti i nostri pregiudizi giudizi da questo cioè da quello che noi abbiamo vissuto le nostre abitudini a cui abbiamo attinto anche dagli altri e quindi questo ha fatto sì che abbiamo dei circuiti interni per cui ormai lui l'ha creato e non deve spendere più energia di quella che gli serve ecco perché è difficile creare abitudini proprio perché perché è così perché c'è bisogno di più energia quindi non è che chissà qual è il mistero il mistero non c'è il mistero è perché serve più energia e non servirebbe mangiare di più o assumere più carboidrati o chissà che cosa è proprio una questione di piste elettriche e poi lì si apre un mondo si apre un mondo su tante cose su come funziona appunto il cervello i bias la memoria e un sacco di argomenti che mi affascinano e che sto piano piano diciamo studiando e che mi piace insomma esporre e che esporrò sicuramente in uno dei video allora dicevamo appunto la prima è silenzio la seconda affermazioni che cosa sono le affermazioni nient'altro che frasi che rafforzano i nostri le nostre intenzioni quindi se abbiamo delle intenzioni e appunto vogliamo trasformarci in un tipo di persona basterà leggere veramente giorno dopo giorno dopo giorno dopo giorno le famose affermazioni quindi diciamo frasi razionali che vanno a imprimersi nel nostro subconscio vanno a registrarsi e non fanno nient'altro che facilitare andando avanti proprio quel tipo di pensieri quindi se noi vogliamo tra virgolette essere persone positive persone che si vogliono trasformare persone che vogliono seguire per seguire quegli obiettivi basterà scrivere in un certo modo ovviamente non basta scrivere solamente io voglio anche perché volere bisogna creare una frase razionale per cui viene comandato al nostro subconscio quello che vogliamo dopodiché il nostro subconscio lavorerà per noi e non farà nient'altro che ripresentarci anche quando noi non ce ne rendiamo conto quella intenzione che noi vogliamo per portarla avanti ed essere appunto trasformarci in quello che vogliamo in realtà è veramente molto meccanico e semplice la questione è che dobbiamo sempre combattere contro noi stessi per realizzare giorno dopo giorno dopo giorno dopo giorno questa cosa il difficile resta tutto là le istruzioni ce le abbiamo in realtà ce le abbiamo da anni il fatto di cambiare e di riuscire a diventare quello che si vuole molte volte lo abbiamo fatto proprio inconsciamente cioè senza sapere nemmeno appunto le basi di queste cose scientifiche in realtà lo facciamo tutti i giorni lo abbiamo fatto sempre proprio perché siamo quel che siamo perché lo abbiamo creato giorno dopo giorno anche non rendendocene conto assorbendo dagli altri assorbendo cose che ci piacevano facendo cose che ci piacevano e la stessa cosa succede anche con le cose che non ci piacciono anzi probabilmente ancora meglio cioè chi è che ha problemi di alcolismo di tabaggismo di qualsiasi cosa cioè anche quella è stata una abitudine creata una non una abitudine sana che si è radicata nel nostro subconscio e noi ormai siamo quel tipo di persona ecco perché è difficile cambiare perché dobbiamo da capo riprogrammare completamente il nostro cervello e ovviamente questo è un lavoro proprio il vero lavoro su se stessi sta proprio lì quando la meditazione nella meditazione si osserva se stessi è lì lì osservi quello che sei capisci se quello che sei è quello che vuoi essere da lì parte la riprogrammazione di te stesso per cercare di essere quello che vuoi attingendo a fonti diverse perseguendo quell'obiettivo che ti sei dato quindi se tu vuoi diventare uno scrittore è ovvio che ti devi immergere nel mondo della scrittura nei manuali di scrittura cioè studiare la cosa è sempre studiare prossimamente porterò dei manuali che non sono veri e proprio manuali di scrittura tecnici ma manuali proprio di mentalità di mentalità di alcuni scrittori che anche quelli mi hanno totalmente rivoltato e che in realtà dicono tutto quello che che stavo studiando nei corsi parlano proprio di quello della mentalità dello scrittore e di come bisogna essere per scrivere se pensavate che fare gli scrittori fosse semplice scrivere due righette così su un quadernino per mettere i propri pensieri il diario segreto tutte queste belle cosine purtroppo non è così non è così io mi ci sono scontrato con forza con vehemenza non credevo che fare lo scrittore fosse stato così credevo tutt'altro credevo che ovviamente non è che fosse più semplice però si hai l'idea originale tu scrivi scrivi il tuo romanzo fai le tue cento pagine per scrivere il tuo romanzo riesci a trovare il tuo editore lui te lo te lo pubblica te lo corregge fa la la correzione ti fa la copertina ti fa tutte queste belle cosine te lo mette nella libreria e improvvisamente arriva il lettore che guarda questo libro e fa oh guarda un nuovo un nuovo autore me lo compro migliaia di lettori che fanno così e sbavano poi ai tuoi piedi no 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 assolutamente no è tutto il contrario bisogna lottare con le unie con i denti con il sangue con con tutto con tutto veramente non credevo fosse così e ecco realizzare questi video è parte anche di questo quindi cercare di donare quello che conosco dare quello che so e cercare di darlo agli altri farmi conoscere ovviamente farmi seguire e tutti gli appassionati di di scrittura o comunque di storie perché quello che vorrei fare appunto è parlare di storie di soprattutto di anche anche degli scrittori di scrittori che hanno passato le stesse cose che passa un qualsiasi scrittore e come hanno risolto i loro problemi se li hanno risolti o come invece magari sono finiti fritti se ci fate caso ogni ogni storia di qualsiasi artista in generale è sempre piena piena pregna di di conflitto e di di assurdità di di modi di di vivere di morire soprattutto di morire quello che mi piace è proprio la parte psicologica la parte psicologica delle storie dei personaggi delle persone che si occupano di scrittura quindi quello che vorrei fare è proprio questo portare questo su questo canale la parte psicologica poi che sfocia anche nel nel parapsicologico perché a me piace molto la parte spirituale il romanzo che sto scrivendo parla di di ossessione parla proprio di ossessione e guarda caso il protagonista è proprio uno scrittore quindi indagare sulle ossessioni sulla psicologia che c'è dietro a questa cosa e e ho inserito anche uno uno scrittore in questo romanzo che si diciamo uno scrittore vero e proprio che è esistito però vabbè ne parleremo ne parleremo poi più avanti dicevamo appunto silenzio affermazioni visualizzazione visualizzazione non è nient'altro che appunto visualizzare qualsiasi cosa sempre relativo all'obiettivo che si vuole raggiungere quindi per esempio se metti caso vuoi il tuo obiettivo sono i soldi semplicemente soldi io voglio scrivere per fare i soldi ok perfetto se tu giorno per giorno giorno per giorno giorno per giorno per giorno visualizzi visualizzi banconote visualizzi la tua casa dei sogni visualizzi la macchina dei sogni insomma visualizzi tutte cose che sono relative ai soldi appunto alla fine dentro il tuo cervello non ci sarà nient'altro che questo e quindi alla fine arriverà arriverà questa cosa ovviamente se il tuo obiettivo sono quelli ci sono molti esperimenti c'è un libro di Robert Cialdini che è le armi della persuasione che voglio portare anche qui sul canale dove parla praticamente di come per esempio il solo mettere sul desktop del proprio computer uno screen saver di un modo invece che di un altro fa sì che il tuo cervello appunto acquisisca quelle informazioni e il tuo subconscio vada proprio verso quello quindi parla proprio per esempio hanno fatto un esperimento su un sito di vendita di materassi di materassi e nel sito web di questi materassi c'era uno sfondo con delle nuvolette delle nuvolette e un altro sfondo che adesso vabbè non ricordo e praticamente hanno scoperto che quello con lo sfondo con le nuvolette faceva vendere più più divani che erano più morbidi più soffici più che non so che c'erano i cuscini una cosa del genere insomma per capire che c'era c'è una relazione tra quello che visualizziamo quindi quello che veramente vediamo e quello poi che che vogliamo o che comunque desideriamo ci sono una mitina di cose psicologiche sotto questi punti di vista che infatti sono assurdi veramente belli 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 e voglio portarli tutti sul canale farveli conoscere perché veramente sono sono fichissimi va bene poi alla silenzio affermazioni visualizzazioni siamo alla sub evers quindi savers la e è esercizio quindi esercizio yoga corpo libero flessioni addominali squat cioè qualsiasi cosa qualsiasi cosa il bello di questa cosa è che potete scegliere ovviamente voi quindi qualsiasi cosa voi volete fare esercizio significa pure prendere le scarpette andare a correre per 10-15 minuti quanto poi il vostro tempo perché ripeto ogni step potete scegliere voi i minuti silenzio potete farlo un minuto corsa potete fare mezz'ora quindi voi se avete per dire mezz'ora da fare in questi sei ve li potete dividere come volete R ricerca perché dicevamo prima lo studio è importante studiare cioè non fermarsi solo all'ambito di cui si vuole far parte ovviamente anche perché specializzarsi solo in quell'ambito significa praticamente avere una visione ristretta non avere una visione a 360 gradi proprio perché la vita è fatta a 360 gradi ogni cosa è connessa ogni cosa è la stessa identica cosa in ogni ambito ed è bello scoprire e trovare sempre dappertutto quindi ricerca significa studio studiare significa anche oltre per dire alla scrittura a studiare neuroscienze studiare psicologia studiare religione cose spirituali chi più ne ha più ne metta nel mio caso a me piace appunto tantissimo la psicologia piace tantissimo la spiritualità la parapsicologia io tendo a studiare tutti i testi che vanno diciamo sotto questo punto di vista e proprio parlando di manuali il prossimo che porterò sicuramente sarà il manuale di Jack London che non è nient'altro pronto soccorso per gli scrittori pronto soccorso per gli scrittori emergenti una cosa del genere e parla proprio di tutto questo cioè lui Jack London vissuto nel 1800 1850 non ricordo quando è nato vabbè insomma si è fatto tutta la la metà degli anni degli anni 50 dell'800 ed è morto nel 1900 oddio nel 1917 o forse pure più avanti probabilmente sì va bene parlava già di questo ci sono anche libri c'è un libro di Napoleon Hill molto vicino ai pensieri della legge d'attrazione che parla proprio di questo parla di come eccoci scusate mi era partita la registrazione ero rimasto praticamente sul libro di Napoleon Hill che appunto parla di argomenti molto attaccati alla legge dell'attrazione e quello che voglio fare infatti è portare il mondo psicologico vicino al mondo spirituale perché in realtà dicono le stesse identiche cose ci sono quattro libri due dei quali allora uno è la legge d'attrazione che diciamo appunto parla della famosa legge per cui si dice che tu pensi a una cosa attrai quella cosa e la porti a te no ho letto anche uno dei passi uno dei proprio della della prima parte sul podcast che ho su Spreaker quindi se volete andarlo a sentire andate su Spreaker per sentirlo e appunto questo libro non dice in poche parole che c'è ci sono questi spiriti che appunto ci guidano dal mondo spirituale per cui l'universo vibra l'universo è fatto di vibrazioni i nostri pensieri sono fatti da vibrazioni quindi basta allineare i nostri pensieri e con queste vibrazioni i nostri pensieri si trasformano in realtà Napoléon Hill va subito dopo quindi c'è uno step successivo per cui lui dice che la ripetizione di una determinata cosa quindi qualsiasi cosa con una frase o qualsiasi argomento o qualsiasi intenzione se ripetuta molte volte e quindi fatta però con la fede con la convinzione di fare questo in poche parole la realtà ce la presenta davanti cosa che tra le due diciamo appunto uno vede il mondo spirituale uno vede tra virgolette la riprogrammazione del subconscio però sempre con questioni legate così al mistero al misticismo come se fosse qualcosa di magico poi c'è un altro libro che è pensare come Sherlock Holmes di Maria Connicova in cui spiega questo concetto il perché succede questo il perché tra virgolette la legge d'attrazione esiste proprio perché tu programmando il tuo cervello e quindi lei la chiama la soffitta della mente mettendo nella tua mente nella tua soffitta quello che vuoi tu riprogrammi il tuo cervello quello che stavamo dicendo prima ecco come creare le abitudini ecco dove sta lo studiare la ricerca quindi ritorniamo qui a bomba perché poi ne parleremo di quelle cose lì ecco dove sta la ricerca cioè il conoscere vari ambiti di magari della stessa questione ti fa aprire il cervello e ti fa togliere quel velo davanti agli occhi per cui se una cosa è tanto strana misteriosa come può essere una legge di attrazione c'è gente che tu gli parli di legge di attrazione diventa matta che dici che non esiste perché tu sei un deficiente che credi cioè invece di affiancarsi di accostarsi scusate alla questione in modo opacato in modo semplice la gente proprio perché ragiona con i bias cognitivi non riesce ad osservare dall'esterno questa questione e crea dei giudizi pregiudici su cose che possono toccare tutti in modo diverso perché c'è chi magari rimane affascinato dal stesso argomento in un modo invece che in un altro funzionano tutte e due le cose ok funzionano tutte e due le cose perché c'è una base ovviamente vera scientifica quello che ti pare però magari ci sono cioè la descrizione di quella cosa avviene in maniera più affascinante più emozionale c'è chi si fa cogliere più dall'emozionalità ovviamente cosa che quasi tutti ci cadiamo tra virgolette ecco dove sta poi dopo il razionalismo tra l'emozionalità appunto uno sceglie tra l'emozione e il razionalismo magari l'emozione quindi viene più preso da queste cose misteriose mistiche o quello che è l'importante come sempre anche detto nei video precedenti in tutti i video è non aderire a nulla cercare di rimanere sempre esterni a qualsiasi cosa per per non aggrapparsi con le unghie a quella cosa a credere fermamente in quella cosa cosa ben diversa ovviamente dal credere di diventare qualcuno di essere qualcuno cioè non bisogna attaccarsi all'argomento bisogna conoscere quell'ambito quell'argomento quella questione per trasformarti in qualcosa di diverso da quello che vuoi cioè da quello che sei adesso se lo vuoi poi se vuoi rimanere fermo immobile va bene così sarà una storia piatta perché non c'è conflitto bravo 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 quindi dopo esercizio qualsiasi esercizio uno vuole fare c'è ricerca abbiamo detto sicuramente questo ricerca studio quindi la fine scrittura che non è scrivere il tuo romanzo ovviamente bensì scrivere un diario lui qua in questo caso lui dice il diario il diario o anche cosa che viene utilizzata molto spesso in tutte le le questioni diciamo sempre di crescita personale di tutti questi corsi che vengono fatti è scrivere che so le gratitudini quindi tu sei grato magari alla tua vita alla tua famiglia a quello che hai a te stesso a quello che vuoi quindi scrivere giorno per giorno questo diario per cui perché è un esercizio molto importante cosa che ovviamente anche nella scrittura vera e propria scrivere di proprio pugno e non scrivere al computer cosa che infatti per esempio la prima stesura del mio romanzo l'ho fatta tutta scrivendo a mano scrivere a mano è molto più non riesco vabbè non trovo il termine giusto diciamo ti fa immergere di più ovviamente sia negli argomenti sia in quello che tu stai dicendo te li fa sentire più veri te li fa sentire veramente dentro di te piuttosto che scrivere asetticamente su una tastiera anche nello studio infatti viene si consiglia proprio di scrivere di proprio pugno quando uno studia su un libro su un saggio su quello che è oltre alla sottolineatura oltre a quello che è lo scrivere quindi proprio il concetto di scrivere con la mano è assolutamente consigliato consigliatissimo proprio perché ti immergi di più in quello che stai facendo e quindi lo rendi più vero è come se lo rendessi più vero e quindi ecco che si attacca dentro di te meglio dopodiché io facendo questi sei step cominciavo la vera e propria diciamo momento insomma per scrivere per scrivere il romanzo appunto mettersi lì almeno un'ora almeno un'ora quindi io mi dedicavo a un'ora la mattina dalle cinque e mezza alle sei e mezza o anche di più un'ora e mezza e facendo diciamo la tecnica del pomodoro la tecnica del pomodoro famosissima anche quella non dice nient'altro che mettersi un timer di 25 minuti proprio perché in realtà si è scoperto che il nostro cervello non riesce a essere focalizzato più di un'ora al giorno ok quindi la vera vera e proprio focalizzazione sì ovviamente uno può stare lì legge studiare però il cervello sembra pare che non riesca ad essere focalizzato più di un'ora al giorno quindi mettersi un in quest'ora c'è bisogno di questa sorta di pausa perché uno mette il tavolo di 25 minuti tu ti focalizzi 25 minuti su quello che stai facendo fai una pausa di 5 minuti pausa di 5 minuti significa fare totalmente il contrario di quello che stai facendo quindi magari alzarti fare dei saltelli fare riflessioni fare una passeggia fare quello che vuoi e riprendere subito dopo i 5 minuti di pausa altri 25 minuti di sessione di studio di scrittura quello che c'è e poi altri 5 minuti di pausa ecco che hai fatto la tua sessione quindi fatto questo io poi facevo colazione mi lavavo mi vestivo e andavo al lavoro devo dire che appunto questo modo di fare mi ha arrecato molto beneficio molto beneficio ripeto dopo un paio di mesi un paio di mesi non sono riuscito più a fare questo dovuto al fatto che ho cambiato l'abitudine perché praticamente è successo nel periodo in cui ho preso le ferie dal lavoro quindi già questo piccolo stacco già il prendere ferie dal lavoro mi ha mandato in cortocircuito il cervello l'abitudine non era più quella di svegliarsi per andare al lavoro ok quindi pensa quanto è delicato è delicato il meccanismo di creare abitudini cosa che dopo 30 giorni più o meno l'abitudine è stata solidificata viene messa lì e sta a posto dopo quel mese e mezzo in cui ho cambiato quella piccola cosa il fatto che il giorno dopo non dovevo andare al lavoro e quindi mi sarei potuto svegliare più tardi ha fatto sì che piano 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 ho buttato diciamo questo tipo di abitudine cosa che ho cambiato subito dopo cioè l'ho riportata alle 9 di sera non facendo più ovviamente questi tipi di esercizi o di quello che insomma appunto i life savers che indicava Harold nel suo Miracle Morning avevo creato tabelle avevo creato spunte avevo creato tutte le affermazioni tutte le cose a un certo punto morto e ho dovuto creare altre abitudini altre abitudini che adesso appunto mi portano con molta difficoltà diciamo nell'ultimo periodo a riuscire a scrivere in maniera continuativa proprio perché stanno subentrando tante cose che devo fare oltre al fatto di scrivere vorrei fare più contenuti contenuti su youtube instagram e quant'altro insomma sui social per cercare di portare comunque le persone a seguirmi ovviamente per quello che mi piace e portare argomenti interessanti per tutti insomma cosa che piano piano cercherò di fare questi primi video ovviamente sono sempre conoscitivi e sto cercando di allenarmi nel parlare nel non fermarmi nel non bloccarmi mai e fare sempre collegamenti con tutto quello che cerco di imparare e di conoscere quindi penso di essere stato abbastanza diretto e di non essermi fermato spesso è un esercizio anche questo e consiglio chiunque chiunque mi segue ovviamente vuole fare vuole intraprendere questa strada qualsiasi strada qualsiasi cosa in realtà non quella della scrittura prevalentemente di fare questo esercizio parlare parlare a se stessi parlare con gli altri parlare davanti alla telecamera abituarsi per collegare tutte le cose perché anche questo aiuta nello studio aiuta a rafforzare i concetti che uno ha studiato per capirli ancora meglio perché un conto è leggerli sottolinearli sì ma parlarne e dirlo agli altri fa sì che appunto uno riesce a dimmergersi ancora di più se non l'avete fatto iscrivetevi al canale seguitemi su tutti i social che ci sono facebook instagram youtube ho anche il blog che è lemiescorie.it dove scrivo articoli gli ultimi che ho scritto uno proprio sulla parapsicologia di un romanzo che ho letto che era di richard mattheson la casa d'inferno non so se l'avete letto se volete andare a leggere la recensione ci sono piccoli anche chicchette all'interno del blog dell'articolo e niente mano mano porterò appunto anche cose tecniche sulla scrittura e su manuali che parlano di scrittura e soprattutto della mentalità della psicologia che c'è dietro e di tutte le cose in realtà che sembrano strane pazze che gli esseri umani compiono ma che in realtà non sono nient'altro che cose normali cose normali che ogni essere umano fa per problemi al cervello al cervello nel senso che il cervello ragiona in questo modo ecco perché bisogna distaccarsi distaccarsi da se stessi e da e da tutto quello che c'è intorno per cercare di essere sempre testimoni dell'esistenza grazie di avermi seguito seguimi ancora appunto su su youtube sul canale e ci vediamo alla prossima ciao ciao